...deficiti di infrastrutture come la nostra non possiamo cancellare... Tre giorni di intensissimi confronti. Gli stati generali del turismo dovranno produrre non l'ennesimo libro dei sogni, ma un testo unico, una Bibbia del settore, cui fare tutti riferimento per il prossimo triennio, istituzioni pubbliche e soprattutto imprenditori. A Falerna, sul Tirreno Catanzarese, l'assessore regionale Orso Marso ha fatto il punto con i giornalisti al termine di due giorni di lavoro. Avuti con gli stakeholders che hanno restituito un migliaio di questionari e 500 suggerimenti. Se noi abbiamo un ritardo che dura circa 50 anni in termini di turismo è perché questo comparto non si è mai parlato. Quindi la vera grande novità, penso, nella raccolta di questi due giorni, poi insomma ci sono i messaggi, c'è una piattaforma, anche ieri vi dico, c'è sempre una vena polemica, di qualche sindaco che voleva intervenire, ma noi non abbiamo fatto un dibattito, non è un convegno, ma era far condividere un metodo, perché se c'è la regione che programma delle cose, noi siamo alla vigilia di programmare il nuovo piano triennale 2023-2025, è dare il senso che la programmazione di una regione, insomma che ha la propria volta a Shaung, condivisa è l'aspetto fondamentale, perché molto spesso, quante volte in Calabria abbiamo 10 siti internet, di 10 diverse associazioni, GAL, Patti, Comuni, Regioni, che dicono la stessa cosa, che significa anche andare a fare un risparmio di risorse, per cui c'è un progetto contenitore che è Calabria straordinaria, dentro ci sono dei sottoprogetti, vanno dei marcatori identitari distintivi, alla terra dei pali, sul turismo, le radici, ma soprattutto ho provato, stiamo provando, insieme al Presidente, insieme a tutta la Giunta, dire ciascuno deve fare bene la propria parte. Faccio un esempio, quante volte voi nel percorso di una destinazione turistica più matura, che appunto Tropea è la Costa degli Dei, vedete le strade con le buche, quello dipende dalla provincia, i comuni, ne discutivamo ieri con i sindaci, le spiagge da pulire, il decoro urbano, quindi rifiuti e acqua, che sono più deleghe, e quindi anche pulizia del mare, attinenti al Presidente ne parlerà anche oggi, ecco se noi crediamo, e questi sono i numeri del PIL, nel 2019 su 33 miliardi il turismo vale il 12%, quindi 3 miliardi e 6, che possiamo arrivare a fare il 20-25%, se ciascuno di noi fa bene la propria parte, per quanto riguarda poi gli operatori, significa, noi siamo, alcune volte, siete calabresi come me, la nostra accoglienza è quasi folclorista, nel senso, tanta buona volontà, tanto sorriso, pacchio sulle spalle, ma i servizi non sono perfetti, per essere una destinazione matura, e noi abbiamo un nostro ospite, nel momento in cui viene in Calabria, per vedere tutto ciò che abbiamo in Calabria, lo ripeto, fino a noi dovrebbe visitare almeno due continenti e cinque nazioni, quindi organizzare al meglio queste destinazioni, essere al passo con i tempi, e quindi essere anche abbastanza tecnici, ieri abbiamo parlato con chi dà un contributo di numeri, i numeri vanno analizzati, vanno interpretati, rispetto ai numeri abbiamo risorse infinite per poter rispondere, io l'ho ripetuto in consigliere già, è un termine forte, da Lago Negra a salire, noi veniamo considerati quasi tutti indranghettista strascico, e sappiamo che non è così, i calabresi stanno fuori, è più facile avere fortuna fuori di Calabria che non in Calabria, perché noi siamo, si lavora sempre da singoli, non si fa squadra, la Versilia, piuttosto che Rimini, è un'organizzazione complessiva, di operatori, di comuni, stiamo per scrivere la programmazione del piano turistico sostenibile 2023-2025, che non è un libro dei sogni, in passato non ho scritto tante cose, significa che lì scrivi che cosa vogliamo fare, e ci aggiungi di fianco le poste di finanziamento, a differenza del passato, queste giornate sono servite a dire, scriviamole insieme, avete tempo, perché resta aperto dopo queste giornate, abbiamo spiegato il metodo, fino a settembre, quando più o meno chiuderemo tutto, perché poi questo libro, che non deve essere un libro dei sogni, diventa la Bibbia dei prossimi tre anni, che tutti dobbiamo conoscere, per cui se le province con le risorse che erano da loro parte, faccio un esempio, devono intervenire sulle strade, se immaginiamo noi che questa terra deve vivere di turismo più, essendo già il 12% del PIL, ma partiamo dalle strade che hanno i collegamenti turistici, perché se voi andate oggi a Tropea, quella strada che collega l'aeroporto con Tropea, continua a essere piena di buche, e non dipende né da me né dai sindaci, dipende magari dalla provincia, poi se le province sono in difficoltà, vediamo se la regione con i fondi europei o PNRR può intervenire a fare un'azione straordinaria, e significa anche una Calabria, che ha avuto sempre questo difetto, perché io considero la Calabria come un'unica grande città di 2 milioni di abitanti, e sapete bene che, quando la politica deve fare le cose, deve fare le scelte, deve distribuire un pezzetto a tutti, se no si scontentava di quello, se no c'era il campanilismo, Reggio Catanzaro, noi dobbiamo scegliere insieme, perché io voglio fare l'assessore dei calabresi, non l'assessore della mia provincia, dove mi votano, perché è il grande difetto che voi conoscete quanto me, che vale ad esempio anche per i media, noi nel momento in cui fare la scelta di utilizzare dei mezzi, parte da quelli che sono più ascoltati e seguiti, e poi utilizzare un po' tutti, ecco io, la diligenza e il buon paio di famiglia, arrivare ad avere un quadro al più condiviso, non lo racconteremo mai tutti, e sapere che per i prossimi tre anni, pancia a terra, tutti quanti noi su questo obiettivo, dobbiamo spingere fino in fondo, perché abbiamo le risorse. Molto bene che siamo stati coinvolti gli operatori, complimenti all'assessore Orso Marso, che ha avuto l'intelligenza, la capacità di coinvolgerli, lo sviluppo turistico devono farlo soprattutto loro, alla regione tocca invece, per esempio mantenere pulito il mare, stiamo facendo un piano straordinario, per lo smaltimento dei fanchi, nei nostri depuratori che non smaltivano sufficientemente i fanchi, alla regione tocca il compito di permettere ai turisti di arrivare in Calabria, e quindi abbiamo raccolto una società di gestione degli aeroporti, che rischiava di avere revocata la concessione, l'abbiamo rimessa in bonus, ora svilupperemo i tre scali aeroportuali, alla regione tocca il compito di investire sulle infrastrutture di collegamento, e stiamo facendo anche quello. Tutto il resto però devono farlo gli operatori, si deve qualificare l'offerta turistica nella nostra regione, ed è giusto allora che ci sia un'assunzione collettiva di responsabilità. Non si vende un solo albergo, non si vende un solo posto, si vendono pacchetti turistici, che sono generati anche attraverso una integrazione dell'offerta, e quindi un contributo attivo da parte degli operatori. sono felice che ci siano tanti operatori, e che queste tre giorni sia riuscite così bene.